L'arresto è scattato a casa in un bel appartamento ad Ancona, ecco lui, 21 anni, che in un caso si è fatto intestare un'autovettura e poi l'ha rivenduta a più di 5.000 euro, mentre lei, la convivente di appena 17 anni, fingendosi l'intestataria del conto corrente di una delle vittime, aveva chiamato in banca pretendendo di ottenere una carta di credito. Sono alcuni dei raggiri di questa sorta di giovanissimi Bonnie e Clyde, due anconetani, finiti lui in carcere e lei in comunità per la custodia cautelare, arrestati dalla squadra mobile di Ancona al termine di una delicata attività di indagine che ha coinvolto la procura di Ancona e quella del Tribunale dei minorenni. La coppia, almeno da due anni, avrebbe approfittato della buona fede di persone e coetanei, almeno quattro, con fragilità mentale e deficit psichici, in alcuni casi impiegati in piccoli lavori di pubblica utilità dei servizi sociali. Uscivano tutti insieme come un gruppo di amici, in alcuni casi due hanno accompagnato i ragazzi in negozi di elettronica per acquistare, tramite finanziamento acceso dalle vittime, televisori da 65 pollici a più di 1.000 euro, iPhone di ultima generazione e Playstation. Il 21enne si era fatto intestare, sempre con un raggiro, l'auto di una delle vittime e aveva fatto in modo di riscuotere i soldi dall'assicurazione di un paio di incidenti stradali. Televisori, cellulari da oltre 1.000 euro, tutti oggetti che venivano acquistati, convincendo le vittime ad accendere dei finanziamenti presso questi centri commerciali e poi dopo a loro rimaneva da pagare il finanziamento. Loro si trattenevano il bene che veniva da loro venduto da altre persone. Stiamo cercando di valutare, ci riusciremo, se ci sono anche altre persone coinvolte e soprattutto anche altre vittime. La coppia è accusata di sostituzione di persona, truffa aggravata, circonvenzione di incapace, continuata e aggravata.